Si è sentito con il ministro Di Maio? No, non mi ha chiamato. Non avete proprio parlato. Ho il telefono sempre acceso, H24, non è arrivata nessuno a chiamare. Io ringrazio Di Maio, ma CTP la salveremo noi. Grazie. Sta la novità che stiamo provando a salvarla. Io vorrei dal governo, a cominciare dalla prossima legge di bilancio, fatti e parole. Parole e fatti. Finora abbiamo visto belle parole, che sono sempre meglio delle cattive parole. Se alle belle parole si aggiungono nelle prossime settimane i fatti, io sono il primo a darne atto a questo governo di aver svoltato nei rapporti tra governo centrale e enti locali. Finora la svolta non c'è.